...inaugurazione della piazza Vittoria Don Pietro della Slovenia, perché qua c'erano quattro sindaci, eh amica... Adesso andiamo col campione... ...eccolo qua... ...eccolo qua il grande... ...e che si ricordano di te... ...e adesso, tornando a rivedermi, a rivedere, ti vedo un look strepitoso qua... ...anche dimagrito, con un look nero... ...infatti dai 128 kg che va a 122, 123... ...so pronto, chi ti incontra, addio, K.O. completo... ...guardalo qua, 2004... ...dai ci sarà un prossimo, dai, dimmi al prossimo combattimento, ci sarà qualcosa... ...dove si è il 18, sto aspettando la sicurezza, forse a... ...in Germania... ...sto aspettando i contratti, perché se che non arriva i contratti non si è sicuro niente... ...senti, ma Gorizia, dall'ultimo combattimento che è stato veramente molto bello... ...sono dei soldati, è meglio che vado a lavorare in questa campagna... ...de polo ancora, come si dice... ...fai attenzione adesso... ...sì, a ti specialmente... ...ecco, vedi, ti ha dato un uppercut... ...ti ha messo a knockout... ...fassi le che ti paghi un culo... ...senti... ...salutiamo, vedi... ...fatti, eh... ...desso ci fa un bel saluto... ...che auguri... ...여 mi accage? ...le so... ...fagli auguri... ...agli amici... ...agli amici... ...agli amici... ...agli amici... ...agli amici... Bonzo alle Olimpiadi di Sydney in Australia, un grande campione, campione europeo, campione italiano, ma adesso combatte ancora? Adesso sì, adesso ci sarà, speriamo, un altro combattimento e lo dobbiamo vedere vincitore per chiudere la sua bella carriera, è vero o no? E anche per rappresentare la città di Gorizia. Esatto, caro Vidoz, scusa la grande Doriana, ma lei è dei tristi, però non è solo dei tristi, ma è anche della grande Puglia, originaria, originaria, attenzione, salutiamo sempre il grandissimo Vidoz, campione, io lo chiamo campione mondiale, anche se aveva la medaglia dei bronze, per me è sempre un grande campione, saluto anche la sua signora, ecco la banda di San Candido. Perfetto, eccoci qua e dopo andremo a vedere un attimo, ho fatto una filmata con un po' di musica molto bella, delle vie, della via principale della piazza, poi, ecco qua, soltiamo la fotografa, gli ho dato il bigliettino, così ci guarderà da San Candido, questo gioiello della Svezia, però dall'Austria. Dall'Austria. Va bene o no? Va benissimo. Benissimo. Bionda. Eccolo, adesso, sì, adesso attenzione, guarda che bella la piazza, ultima suonata, sentiamo. Bionda. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.